Lui vorrebbe iniziare un corso di tennis Va bene, ma hai qualche rudimento? Hai già giocato? No, no, hai qualche rudimento ti ha chiesto No, no Non ce l'hai il rudimento E cosa c'hai? Niente Hai mai preso una racchetta in mano? Cosa hai preso in mano? Un ballone Però si è attratto dal tennis Un po' Un po' E dobbiamo provare Vediamo se sei E mica devo dimagrire No, scherzavo Questo è body shaming Puoi provare anche così Puoi provare anche con la panza Ma non è che ti metti a dieta Che non mangi Magari è sopperito dalla tecnica C'è una tecnica di base Ma devo mangiare per forza Come non mangi Devi mangiare per forza Sì, e se no Se no non giochi a tennis E se no non possiamo giocare Cosa ti piace più del tennis? Una racchetta